non è che io faccio schifo disegnare io non so fare proprio non lo ha imparato a parte i cazzi che mi so far bene ciao a tutti ragazzi che amici siamo al vostro povero youtuber di quartiere e oggi sono ancora in compagnia del visconte salve non diciamo che in realtà sono sempre io sempre nello stesso giorno non lo capiranno mai oggi visconte vediamo se ha capito bene cosa faremo allora io devo replicare ciò che tu mi disegni dietro la schiena esattamente ma non ho una penna ed eccola qua che bella penna l'ho rubata in vietnam dice che il veneto è la terronia del nord io adesso andrei nei commenti lo insulterei perché lui è di ferrara quindi venitemi a trovare io dovevo fare il regista ma la scuola cinematografica non mi hanno voluto faccio finta di disegnarlo in immaginario così sente vai vai piano e ricomincia aspetta aspetta ritorna indietro io sto ritornando indietro ok ok io ripasso dove sei arrivato prima ok ok sì sì ok ok è quello che senti e poi voi ho provato immaginare qualcosa doveva essere una tigre a vabbè certo dai io mi non c'è è uguale proprio adesso tocca a me il calabiscotto non mi disegni peni allora io vado sul classico io vado sul classico mmmm 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 si e poi ok e fai ok sembra tutto così fallico s o o o o o o o o L'hai fatto? L'hai finito? Aspetta non si vede! Che cosa sarebbe Fisconti? Illuminami! Io volevo dipenderti un uomino con un cazzo in mano! Ma che cazzo? Che cosa è più classico! Non aveva visto questo eh! Non l'ho già fatto un bel po' di cerchi! Fallimentare direi! Fallimentare! Veramente! Abbiamo fallito! Ma è qualcosa la giusta?